Guardate qui, cade ancora... No! No vabbè, questo è impossibile, quel palo è maledetto ragazzi, un altro era volato Ciao a tutti ragazzi, qua Dexta e oggi sono qui con questo nuovo video su GT5 Online Con nuove gare stunt, finalmente ragazzi siamo ritornati 3, 2, 1 e partiamo subito, io ho preso la mia Osiris Stiamo attenti già alle spinte due giri per noi ragazzi, fumogeni in fondo Checkpoint buggato, eh sì purtroppo sì, niente io qui Sono andato molto avanti, cerchiamo di ricomparire, niente neanche mi fa ricomparire Vai ripartiamo, non a posizione per noi, vediamo un po' qui di prendere il checkpoint Ok finalmente ce l'abbiamo fatta e buttiamoci, questa volta il lancio è confermato Front flip estremo, atterraggio epico e andiamo ragazzi Checkpoint di sinistra, oh merda stiamo attenti qui, stiamo attenti perché arrivano tutti all'improvviso Vediamo un po', vediamo un po', prendi questo, ok perfetto c'era quello che mi passava accanto No comunque questo inizio di gara è veramente, veramente particolare perché Qui basta, basta uno sbaglio e sei fuori con queste piattaforme senza parti laterali insomma Allora vediamo un po', questo cos'è un mega wall ride? Andiamo, non lo so ragazzi, non lo so, vai sali su, sali su andiamo, andiamo Osiris Non mollare, non mollare perché forse ci siamo Sì non esplodere adesso, ok questa parte era bruttissima Infatti lì c'era l'auto, l'auto esplosa di uno Comunque ci siamo ragazzi, questo è l'importante Quel bastardo mi ha spinto, adesso appena ne avrò l'occasione mi vendicherò assolutamente Allora vabbè cerchiamo un po' di recuperare, siamo in sesta posizione Ci sono due giri e la gara dovrebbe essere un po' lunga Allora vabbè, altro checkpoint, andiamo col turbo Quello intanto era dietro, quello che mi aveva spinto Vabbè se dovesse superarmi poi appunto mi vendicherò attenzione Mamma mia che voglio che io ho fatto fare a quello Però io ho fatto prendere ragazzi il checkpoint Dai questa è la cosa positiva Allora scendiamo giù per questa spirale Vai 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 vediamo un po' Oh merda, lì c'era il turbo, guarda Ok fortunatamente ci siamo Cioè come cazzo è possibile che quello si era bloccato proprio lì Proprio nel momento insomma importante della spirale Allora altro checkpoint, palle da bullying C'è un altro salto qui No ok mi sembrava la parte di prima, quella dell'inizio Invece no Allora vai siamo in terza posizione Vabbè non ci credo Le posizioni qui cambiano ragazzi all'improvviso Quindi sono un po' troll Andiamo da questa parte Perfetto Vai ci siamo Mamma mia che è entrata con stile dentro Dentro questo Non so un megatubo non è È una serie di spirali che formano un tubo Comunque vai Andiamo qui Potenza Vai il turbo andiamo Era da un po' che non prendevo tutto questo turbo insieme Perfetto lì c'è il checkpoint Cerchiamo di fare l'atterraggio buono No comunque siamo in seconda posizione ragazzi Sì è confermato Prendi il checkpoint Sì siamo in seconda No perfetto Vai giù Merda quello stava così per andare fuori Anche io però Alla fine siamo rimasti qui nella rampa Niente dai Alla fine Non mi aspettavo la seconda posizione per il momento Qui il front flip Non l'ho deciso io Non è stato voluto Allora vai atterriamo Niente io e il primo giocatore siamo qui Guardate che voli Vai rimettiti bene Ripartiamo subito Perché ci sono questi troll Questi piccoli salti Un po' troll Dove giustamente poi alla fine Sbaglio tutto Allora vai da questa parte Perfetto Mamma mia 360 Vai ce l'abbiamo ragazzi Vediamo un po' il sorpasso qui Vai prendi questo checkpoint Allora siamo al secondo giro In prima posizione Ho fatto il sorpasso veramente bellissimo Il volo Altro front flip Merda sto andando troppo veloce Subito a sinistra Ok ci siamo Quello si è schiantato Infatti aveva preso la scia ragazzi C'è rimasto fottuto lì Nel grattacielo Comunque siamo altissimi Altro turbo Altri fumogeni E si continua ancora Comunque una gara bellissima E niente qui Che cazzo Me ne sono andato fuori Niente il fumogeno mi ha ingannato Sì perché pensavo che lì ci fosse la strada Invece no Quarta posizione Vabbè recupereremo Non c'è problema Non c'è problema Adesso ci siamo Ok niente Non si capisce nulla Con quel cazzo di fumo giallo Rifacciamo questo wall ride Spirale Vai salisuosa Iris perfetto Fortunatamente ci sono le guide Altrimenti Sarebbe molto più complicato Non esplodere Ok perfetto vai Siamo già in seconda posizione Buttiamoci giù di nuovo Per quest'altra spirale Oh merda C'era uno lì che stava salendo Ah ma forse allora Sì sì Allora No che cazzo sono esploso No vabbè Ma è impossibile È impossibile ragazzi Come ho fatto ad esplodere Sì vabbè Adesso siamo in quinta posizione Comunque la spirale Alla fine è sempre la stessa Ovviamente Però dobbiamo stare un po' più su Perché poi c'è quella parte Vai Oh merda Guarda qui che cose bastarde Vai Ok fortunatamente Grazie alla spinta di quello Ce l'ho fatta Non so perché Prima sì Adesso no Boh vabbè Cosa assurde Poi la mia auto Era pure esplosa Niente La prima posizione ragazzi Ce la possiamo assolutamente Scordare Ovviamente Questi troll Non mancano mai In queste fottutissime gare Comunque Prendiamo un altro checkpoint Ormai Dai ci stiamo più o meno Avvicinando alla fine Adesso dobbiamo scendere Che cazzo fa quello Ma che cazzo faceva No Sono rimasto Ma che cazzo Si vabbè ragazzi Non è possibile Questi sono i troll Sono rimasto bloccato Con il rallentamento Non era normale Ovviamente quello di prima Era fermo Proprio per questo motivo Niente vabbè assurdo Il primo gioco concluso E ovviamente ci credo Le cose Le cose incredibili Capitano soltanto a me Comunque qui Doppio front flip Andiamo con l'atterraggio Ok vai Ce l'ho fatta All'ultimo Cazzo Aveva preso un giro Bruttissimo Comunque ci siamo Andiamo qui vai Tentiamo di nuovo Il 360 ragazzi Epico Con la nostra Osiris Perfetto Ultimo checkpoint E andiamo in Sesta posizione Niente dai Alla fine è stata Veramente una bellissima gara Piena di parti Insomma un po' Un po' strano Un po' improvvisa Però alla fine Ce l'abbiamo fatta a concludere Questo è l'importante Molto bella Adesso ne andremo a fare un'altra Altra gara Questa volta abbiamo le moto Siamo prontissimi Con le nostre Batim Anche se ho visto Che alcuni hanno altre moto Forse sì Quella è la BF400 Però la maggior parte Ovviamente abbiamo L'abbati Perché è proprio devastante Vai partiamo subito Col turbo Ok siamo in spiaggia Non mi aspettavo Un inizio del genere Comunque vediamo un po' Spero ci siano qui Delle parti stante La gara non agire Da punto a punto Attenzione Oh merda E lo sapevo C'era un palo Uno solo ragazzi L'ho preso io Guardate qui Cade ancora No No vabbè Questo è impossibile Vabbè ma questo è veramente Quel palo è maledetto Ragazzi Un'altra era volato Cioè sono morto Che cazzo fa quello No vabbè Non ci sono parole Comunque Non so che cazzo Sta succedendo Sinceramente a questo punto Cerchiamo di andare via Di allontanarci un po' Da tutti Vai Ok perfetto Qui ci sia Merda Prendo tutte le cose Prendo tutte le cose io E' impressionante Allora siamo arrivati qui Nel ponte In dodicesima posizione Però penso che avremo Abbastanza tempo Di recuperare Eh si perché La gara dovrebbe durare Un bel po' Non lo so ragazzi Allora saltiamo da questa parte Perfetto Guardate qui che parte bellissima A terra non morire Eh merda Lo sapevo Non morire adesso Ok perfetto Ci siamo Niente Piena di troll Pure questa gara qui Io non ho parole Andiamo con calma Oh merda Perché poi c'è sempre qui Eh come dire La presa in giro Delle gare con le moto stante Che delle volte Cadendo dalle moto Muori Altre volte no Qui c'è una rampa Saltiamo Arriva al checkpoint Subito Arriva al checkpoint Ok perfetto Lo sapevo che andava a morire Quindi prendere il checkpoint Cazzo era fondamentale Altre rampa Questa volta molto più lunga Rispetto a quella di prima Arriva al checkpoint Arriva al checkpoint Altrimenti moriamo Ok non siamo morti Però siamo andati fuori alla rampa Vabbè ovviamente qualcosa Deve succedere Oh muoio ragazzi Colpisco qualcosa E vado da un'altra parte Cioè veramente Non si capisce più Quello dove cazzo arriva Cioè totalmente Da un'altra parte Qui alberi Nella strada Niente non ci sono parole Per il momento Siamo qui nella ferrovia Ok c'è un altro salto ancora Arriva Mi raccomando non morire Ok perfetto Ce l'abbiamo fatta Niente siamo in ottava posizione Ragazzi Vai continua Da quest'altra parte Perfetto Intanto Tutte zone strane Però Alla fine dai Riusciamo a farle senza problemi Sono tutte zone piene di oggetti Questa è la cosa Che cazzo è No vabbè come ne sono morto Dai non ci credo Ho preso il muro con la testa Forse sì o forse no Neanche me ne sono reso conto Comunque il primo è già concluso Va benissimo Questa gara deve finire Perché Altrimenti Non so quante altre volte Dovrò morire Cioè capitano cose impossibili Allora vai Perfetto Mi sa che comunque siamo alla fine Perché il primo non era proprio così lontano Intanto un altro palo Lì dentro il tubo Ovviamente Vai giù da questa parte Prendi quest'altro checkpoint Intanto qui c'è tutto il turbo Saltiamo Sorpasso in volo Dove cazzo è Oh merda il traguardo è lì dentro Forse sì Il traguardo forse è dentro le gomme Io ovviamente non ci sono arrivato Ma vediamo un po' Siamo in quinta posizione Vai No vabbè Non posso arrivare lì sopra Non ci potrà arrivare mai Forse è qui dietro È una cosa più probabile Ragazzi No è dentro O forse è giù Vediamo se è giù Eccolo qui Guardate le parti troll Vabbè impossibile ragazzi Ovviamente una persona normale Pensa che il checkpoint Sia dentro quelle fottutissime gomme Invece no Era sotto Quindi è confermato Questa era una fottutissima gara troll Comunque sia molto bella Niente da dire Però Cioè sono morti in maniera In maniera assurda Soprattutto all'inizio Quando ho preso quel palo Comunque sia molto bella Adesso ne andremo a fare un'altra E eccoci qui di nuovo con le super Questa volta abbiamo L'FMJ che non ho preso io Cioè si era buggata la lobby E praticamente il gioco Mi ha dato quest'auto Comunque sia 3, 2, 1 E andiamo vai Con il turbo Vediamo un po' Spero che Insomma vada tutto bene Perché quest'auto Sbanda tantissimo O per meglio dire Le ruote slittano Veramente tanto Però dovrebbe andare tutto bene Allora Cerchiamo qui già di fare Il primo atterraggio Perfetto Vai ce l'abbiamo E si riparte ragazzi Attenzione qui ci sono Tutti i birilli Vai facciamo strike No Non abbiamo fatto strike Ma io così perché guardate un po' Stiamo recuperando Tante posizioni Dobbiamo andare su Vabbè penso proprio di si C'era pure il turbo Quindi si ragazzi Non lo so dove cazzo stiamo andando Spero sia la via giusta Veramente Spero sia Vai andiamo Andiamo a FMJ Stiamo un po' Il centro Ragazzi dovremmo esserci Veramente non si capisce Assolutamente nulla Eccoli il checkpoint Un esploso Vai prendilo Alla perfezione Ok ce l'abbiamo Intanto guardate qui Mamma mia Proprio Le gomme slittano In una maniera impressionante Allora dai Sta andando bene Per il momento Non vorrei parlare troppo Però dai Per il momento Ci siamo Comunque una gara Dove non si capisce Assolutamente nulla Cazzo qui dovevo abbassare L'auto Infatti altrimenti Potevamo rimanerci Proprio fottuti Vai Vai ok ce l'abbiamo Prima posizione per noi Sì ragazzi Mamma mia Epico epico Allora corriamo Guardate qui Proprio stiamo sfidando La forza di gravità In questo gioco Non esiste Andiamo Devo fare qui Questo wall ride Ragazzi Devo scendere giù Io seguo le frecce Sì perfetto Vai ci siamo Non era proprio Super intuitiva la cosa Però Dovremmo esserci Almeno spero Sì lì c'è il checkpoint Mamma mia Niente Tutto a caso Cioè Auto a caso Gara a caso Veramente impressionante Allora adesso devo rifare la stessa cosa Sì vai FMJ Non tradirmi Andiamo da quella parte Girati auto Guardate un po' qui Le ruote che slittano Sono veramente una cosa super negativa Ragazzi Secondo giro per noi Sono in prima posizione Da non credere Vai vai Che forse Vabbè Non voglio parlare troppo Però dai Per il momento siamo in prima E abbiamo un bel distacco dagli altri Non so cosa succederà Continuiamo Risaltiamo qui Con tutto il rallentamento No bellissimo Nell'inizio Insomma c'erano tutti i birilli Si faceva strike Che cazzo è Quello è un altro Ragazzi abbiamo già doppiato uno No impressionante Allora c'è gente che forse Per qualche strano motivo Non riesce a fare la gara Boh non so perché Oh merda Qui devo stare proprio attento Vai ci sono Sì ok Ce l'abbiamo ragazzi Non devo andare Nelle parti laterali Girati auto Perfetto Dai sta andando alla grande Continua Andiamo FMJ Vai 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 Vediamo un po' Devo stare un po' Ok più centrale Il problema è che è l'auto Ragazzi vai bassati Perfetto L'auto se ne va Ovviamente nelle parti laterali Che cazzo è successo qua No non dirmi Questa parte non la posso fare Ovviamente no Devo ricomparire Merda lo sapevo Qualcosa doveva succedere Cazzo Vai sono ancora in prima Però ragazzi Sono ancora in prima Andiamo col turbo Andiamo FMJ Vai 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 Turbo estremo Turbo estremo No merda Quello Quello è il secondo No vieni qui È il secondo Che poi però Per adesso dovrebbe essere il primo Andiamo corri Non fermarti auto Perfetto Salta Prendi il turbo Fai qualcosa Ok ci siamo ragazzi Niente io è il primo Siamo praticamente qui Andiamo Vabbè io il secondo O forse no Sì sì No comunque dovrebbe essere Per forza Quello il Il secondo giocatore Allora vediamo un po' Vediamo un po' Vai che ci sono Guardate la sbandata Ok Cadi giù auto Perfetto Ce l'abbiamo ragazzi Stiamo attenti Mamma mia Bruttissima parte No comunque Qui mi dice che sono in prima Sì ma non è normale Perché Per un attimo ero passato in seconda Allora quelli non sono Non sono i primi Cioè sono io in prima E mi manca soltanto il traguardo Cazzo Posizione per noi Ragazzi io veramente Sono senza parole Sono senza parole Cioè non mi aspettavo Di arrivare in prima In questa gara E soprattutto con quest'auto Che c'è Ho preso a caso Perché praticamente Si era buggata la lobby No comunque impressionante Veramente Bellissimo Ragazzi che dire Spero che il video Vi sia piaciuto Abbiamo giocato tre gare Molto belle Le prime due Un po' troll Devo dire Però alla fine L'ultima è stata veramente Insomma un po' Più particolare Siamo anche arrivati In prima posizione Forse devo un po' Rivalutare L'FMJ come auto Non lo so Non lo so Comunque sia Io spero che il video Vi sia piaciuto Qui è da extra Asciuto un mi piace E ci vediamo Al prossimo video Ciao